ciao a tutti e benvenuti nel mio canale youtube mi chiamo martin ho 30 anni sono parete informatico fare fotografie scrivere poesie videogiochi anime manga fumetti e cartoni metterò in descrizione link al mio forum e al mio account di google plus dove potrete trovare le mie poesie e le mie fotografie spero che visiterete il mio canale ciao a tutti